ciao a tutti e bentornati qui sull'analfrici mars allora quando pare il totale razione mista non ne hanno più bisogno le mie mucche adesso scarico questa qua e poi gli diamo un po di paglia ma prima voglio dare da mangiare alle mie galline perché secondo me è un po di tempo che non gli do da mangiare è vero che la sopra non mi viene fuori niente però mi voglio mettere un po al sicuro cos'è manco qua scarichi adesso ma perché chiudi lato scarico allora dobbiamo andare a seminare un po di roba o tante cose da seminare tra cui colza il sorgo il farro il luppolo e il grano saraceno e dovrei iniziare oggi anzi andiamo a vedere anche come messo quasi quasi lì il nostro coltivatore perché stava stavo lavorando i campi e non ho capito perché hanno modificato quella benedetta seminatrice che prima non c'era bisogno del coltivatore adesso si strano allora se non sbaglio cosa prendono le galline non mi ricordo mai cosa prendono le galline da qui si vede animals galline io quale ho non mi ricordo più dovrei avere questo e questo è quello ho un dubbio quello proprio grande no ho questo il medio questo allora prendono il prumento se non sbaglio prendono anche triticale peccato che qui non viene fuori non sarebbe però male allora vediamo io cos'ho perché manco mi ricordo quello che ho un po di cose mi mancano ultimamente allora vediamo un po di triticale uno no più niente qua sono completamente a secco ragazzi e wow guardate un po ok allora cosa gli diamo gli diamo gli diamo gli diamo quello che ho ho un po di orzo un po di sorgo diamo gli un po d'orzo dai l'unica cosa che ho fortuna che le galline mangiano poco a proposito c'è una nuova mod che vi voglio far vedere non so da quando c'è però l'ho scoperta da poco adesso la installo e questa cosa qua ve la faccio vedere è è uno script niente di particolare c'è una cosa che è da un lato molto utile per il semplice motivo che ci dice la precisa quantità di mangiare di mangime che hanno bisogno gli animali giornalmente anche annuale una volta installata la vedete subito sul coso che adesso vi faccio vedere io vado a caricare qui ehi troppo avanti e allora dov'è qua andiamo sugli animali vediamo che ci sono due nuove righe qui daily food 22.000 e yearly food 323.000 le pecore in questo caso no vediamo queste queste qua 21.000 perché probabilmente ce ne sono un po' meno nella stalla qua invece hanno bisogno di 5.000 al giorno che è un po' esagerato secondo me e 60.000 annuali invece le mie mucche hanno bisogno di 55.000 5.000 ah 5.000 vabbè non sono tantissime invece queste 35.000 al giorno non è male allora questo l'ha preso tutto e direi che per adesso loro sono a posto così non gli porto più niente devo solo vedere anche gli altri come sono messi e poi con le galline siamo a posto allora uno ha finito course play che è che ha finito course play course play avevo nessuno che lavorava con course play quello che era il lavoro sul campo 22 24 oh andiamo a trovare anche le altre galline ma alla fine abbiamo 5 campi da seminare non sono tantissimi eh 5 campi no 6 tra cui 2 non li possiamo seminare adesso perché dobbiamo aspettare un paio di mesi che significa che non è che per forza le dobbiamo fare subito devo vedere come sono messi anche a paglia questi ragazzi qua perché fanno vedere oh paglia c'è allora vediamo un po' andiamo per ordine va aspetta tu hai finito benissimo allora stai qui tanto tu non no volevo dare la paglia alle mucche poi devo pensare anche ai maialotti perché ai maialotti è un po' che non ci vado anche loro hanno bisogno di cibo ma quello forse lo tiro fuori da una produzione se non sbaglio quello dello zuccherificio mi tiro no zuccherificio è che mi tira fuori qualcosa per i maialotti mi ricordo allora chi qual è ma comunque qualcuna ci sarà la andiamo a prendere da lì ok allora non silo razione mista ma silo silo base carica allevamento muc cibo e qua mettiamo un po' di paglia ok allora dove era quello fermo qua ok Grazie a tutti. Allora, vediamo lì come... eh, lì ha fatto male anche quella parte lì, ma intanto dobbiamo aspettare un pelo. Allora, avevamo detto che è sul 22 che è questo luppolo. Devo mettere in funzione anche il camion con l'acqua per le mie produzioni, che è un po', secondo me, che non gli porto dell'acqua. Allora, adesso finiamo di coltivare questo campo qua e dopo passiamo a quello. Allora, vediamo l'acqua per le mie. Allora... Questo è quello che succede se non utilizzi i cuspoli, no? Ormai siamo così abituati a Kurzplay che con l'aiutante della Giants non ci fa più caso che dici, vabbè, c'è sta parte qua che rimane ogni volta a fare il giro. Una delle prossime produzione che piazzo la piazzo qui, in quest'angolino, così tiro via sto pezzo che tanto è inutile, guarda. C'è anche la strada qua che non sarebbe male. C'è anche la strada qua. 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 Grazie a tutti. Un po' di lavoro di campo, è un po' che non facciamo, perché ultimamente è stata tutta un'amministrazione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. A questo punto mi conviene che faccio anche gli altri campi, perché una volta che c'è il problema qua, è una rottura. Ce la facciamo? A malapena. Dobbiamo vedere gli altri campi come sono messi, perché se abbiamo tirato via i sassi allora non c'è bisogno. Ma se c'è ancora l'erba piantata dobbiamo dargli prima di coltivatore, perché altrimenti non funziona. Allora vediamo il 32 è a posto, il 37 è a posto, il 52 è a posto, questi sono a posto, che significa che secondo me non abbiamo problemi da nessuna parte, dovrebbe andare bene. Adesso comunque questo lo parcheggiamo qua. Allora vediamo. Allora vediamo. Ops. Ok. Allora, l'avevo fatto anche se l'avevo fatto, questo coso qua ormai l'ho cancellato. Allora, due giri, iniziamo dal centro. Speriamo che lì non si blocca da nessuna parte, così almeno... Allora, l'uppolo sì, ok. Allora inizia dal primo punto. Perfetto. Perfetto. Andiamo su questo. Ehm... Quale ha fatto? Ho fatto il 24. 24. Ma per adesso lo salvo, poi vediamo. Ehi. qui. Indietro. Allora. Ok. Sul 23 per caso non ce l'ho già? No, non ce l'ho. Andiamo a fare anche sul 23. Ok. Ma me li dava già? Erbacce in crescita. Vediamo se là me li ha tolto, visto che non abbiamo passato il sarchiatore. ma la zappa, sì, va bene. Questo è arrivato, mi sta bene. Anche quello è arrivato, ok. Boh, direi che abbiamo fatto un gran lavoro. Che abbiamo fatto un gran lavoro. Vediamo come siamo messi questi qua con la calce. Oh, il 52 non è scannerizzato? Scansionato, scannerizzato, chiamiamo un po' come vogliamo. Vediamo quanto ci vuole, se volessi farlo. Acquisto informazione suolo? No, 17.000. No, no. Tanto c'è il tempo. Ho il piccolino, ci mando il piccolo. Guarda un po' dov'è. Allora, nessun percorso. Qui. Zac. Un giro va bene. Anche se... Nel punto più stretto secondo me basterebbe anche che... Vabbè. E anche lui è a posto. Questa non può fare niente perché la seminatrice qua non va bene. Oh, sta cacchio di cose ancora qui. Eh, ma prima o dopo dovrà andarla a prendere. Tu perché sei fermo qua? Ah, perché tu hai finito. Allora, yacht concime qua. Non me lo dice da nessuna parte, eh. Me lo dice qui. Allora, questa sta producendo... Eh, secondo me manca dell'acqua però. Perterizzante liquido. L'acqua c'è. Attivati anche tu. Che me ne fai un po', c'è ne sono 7 mila litri. No, non abbiamo bisogno. La... Produzione dei semi. Dobbiamo dargli un'occhiata, vediamo come è messa. L'ho saltata. No, qua. Ok. Siamo a 105 mila. Lavora ancora. Lavora solo con il triticale, ma va bene. Tanto ci basta. Bene. Erba da campo. Erba da campo. Ho finito di fare la produzione di tutti i cosi anche. Di tutte le produzioni. Mancano solo i nomi. I nomi precisi qua sopra. E poi ho finito tutto. Ma probabilmente fra un po' verrà fuori un'altra produzione. Un altro pacchetto di produzione. È un qualcosa. Mi tocca aggiornarla di nuovo. Beh, adesso poi vediamo. Allora, quello è al lavoro. Avevo detto i maiali. I maiali, i maiali, i maiali hanno bisogno. E dove mi viene fuori il coso per i maiali? No. Come viene solo della calce. Che poi sta calce qua. Potrei anche sfruttarla per... Da portarla in magazzino e sfruttarla per qualcos'altro. Separatore liquido viene fuori con cime. No. Allora viene fuori qui. Del cibo per i suini. Perfetto. Prendiamoci un camion e portiamo un po' di... Guarda, ce n'è uno proprio a disposizione qua. Allora, aspettate un attimo che ho una cosa a zero. Così la disattivo. Che è inutile farla funzionare. A proposito, come siamo messi con la carne? Pecora toctona ne abbiamo... Dov'è? Qua. Allora abbiamo carne di mazzo 30.000. Pelle 15.000. Bustel 33.000. Carne di vitello pochissima. Carne di maiale 14.000. Scarti animali. Carne di pecora, lana. Carne di agnello poco. Carne di pollo pochissimo perché non gli abbiamo portato niente. Magari proveremo al prossimo giro di portargli qualcosa anche con qualche pollo. Così facciamo anche quella. E poi a questo punto possiamo provare anche il rimorchio se funziona. Allora, qui devo venire a lavorare. Vedete che qua bisogna che ci venga a lavorare con il coltivatore. Infatti non posso seminarlo. Bene. Passiamo anche dal campo quello là, così vedo anche quello. Oh. Allora questo non è mio. Oh sì. Boom, ricordo. Ah, il 29 è mio però in fase di crescita. Che significa? No, quello va bene, ok. Boh, devo mandare solo il coltivatore sul campo 35. Poi tutti gli altri non c'è bisogno. Vabbè ragazzi, chiudiamo questa puntatina qui. Noi ce la vedremo nella prossima. Dove porteremo il cibo e i maialotti. Buona ragazzi. Allora, al prossimo video. Siete qui sulla Mars. Ciao. Ciao. Ciao.